Buongiorno a tutti, buonasera, anzi, sono Francesco Bruni, raccolgo l'invito del circolo Enrico Pizzuti a presentare telematicamente il mio film Noi Quattro, che è una pellicola di un paio di anni fa, che racconta, come vedrete, fondamentalmente una giornata di una famiglia romana, un po' esplosa, una giornata cruciale, pur essendo una giornata per certi versi anche assolutamente normale, in cui questi quattro personaggi si confrontano con quel che resta dell'amore che li ha uniti e che ne ha fatto una famiglia. In tempi di Family Day, di ridiscussione del concetto di famiglia, mi sembra un film che può avere un suo interesse specifico, è una commedia, nel senso che le problematiche sono trattate con un tentativo, almeno di senso dell'umorismo, ma è anche un film attraversato da una forte nota, diciamo così, romantica e anche di nostalgia per una certa armonia perduta all'interno di questo gruppo di persone. Io vi saluto, nel frattempo qua si va avanti, ne approfitto per presentarvi anche il mio prossimo film che sto finendo di montare e che sarà, mi auguro, nelle sale ad autunno prossimo. Buona visione!